che taglio ma lo fanno anche da uomo no solo per alieni o tra visconte dov'è finito sparisce sempre quei quest'uomo ciao a tutti ragazzi qui è mickey sama il vostro povero youtuber di quartiere e dopo un bel po di tempo sono ritornato perché ultimamente è un periodo un po pieno e sono qui in compagna di questo energumeno sono io sono proprio io ma con un taglio di capelli differente si il taglio dei capelli non da uomo oggi siccome il visconte prende sempre in giro noi veneti denominandoci terronia del nord voi siete dei terroni del nord beh ho deciso di costringerlo a imparare la lingua degli dei quindi io gli insegnerò il verbo e lui apprenderà forse spero il verbo la grammatica e spero che a fine video riusci a formulare una frase di senso compiuto in veneto addirittura una frase quindi ha preso un foglio per prendere appunti guardi questo quadernino composto da due pagine per l'occasione ho preso l'insultario veneto italiano perfetto ovviamente come fai a imparare una lingua nuova ovviamente subito dalle parole io partirei con qualche insulto a caso preso da questo libretto vai e glielo dirò al visconte vai io proverò la traduzione cercherò di tradurlo te si una pittima allora aspetta che te allora te si na pittima allora te si na quindi tu sei un ok pittima non ho la più pallida idea di che cosa voglia dire allora sarebbe suscettibile però tradotto tradotto pittima sempre in dialetto sarebbe delicato come tette delle monaghe ovvero delicato come le tette delle suore c'è tutto questo tutta la frase racchiusa in pittima capito c'è bisogna andare un po' quindi lei è suscettibile io sono suscettibile ma suscettibile come il pesce ok suscettibile ok ho scritto suscettibile poi vediamo spider-man hai visto che sono spider-man tu non sei mica spider-man addirittura vabbè tesi na ma rantega e vabbè ma cos'è allora questa qua la so dai tesi na ma rantega rante rantega allora andiamo nella scomposizione della frase no abbiamo tesi na che ovviamente abbiamo capito tutti che tu sei un andiamo però la parola marantega allora innanzitutto io conosco e vedo subito tega che non c'entra niente con questa parola la nazione però maran maran maranza tegas è un cazzo di un maranza no però il suo ragionamento fila allora in pratica marante è una donna una donna anziana è piuttosto impicciona una di quelle che sa sempre tutto di tutti quindi non ti fai i casi tuoi praticamente sento proprio palese con il mio ragionamento quindi una va bene poi cioè lei questa è dedicata a lei ovvero lei è un mena o sei faccio una piccola parentesi perché se lo vede un veneziano o un vicentino cioè io ognuno c'ha la sua pronuncia i suoi modi di dire quindi non commentate se voi non lo dite in questa maniera o se siete bene o se siete di cos'è venezia e venezia vicenza qualsiasi provincia siete di magna gatti no state a casa intanto si dice magna gatti in veneto e non magna gatti in veneto in ferrarese in ferrarese magna gatti comunque cosa vuol dire mena usei boh mena usei mena e menare usei sugli uccelli un mene c'è uccelli un masturbatore bravo un segaiolo si bravo ma vai mi sto già adattando mi sono appena schistato in faccia battesà con l'acqua dei polpi eh sì vabbè allora cos'è battè battesà con l'acqua dei polpi allora battesato con l'acqua dei furbi no con l'acqua dei polpi cosa vuol dire allora adesso ti ho detto viene detto di un bambino che non sta mai fermo molto vivace e che si muove come un piccolo polipo ma voi avete tutto un modo di fare di dire le cose veramente cosa vuol dire cosa vuol dire o questa non la sa non la sapevo adesso te la dico narabottolo un arabo che botto vuol dire vuol dire girino uomo piccolo e brutto aspetta è bellissimo aspetta aspetta narabottolo narabottolo con due b no con una b e una t arabottolo narabottolo questa non la sapevo neanche io lei è un arabottolo passiamo a insomma ai verbi girino uomo essere lo sa il verbo essere in italiano ovviamente no va bene ma perché io sono austriaco e quindi di conseguenza ha presente il famoso pittore negli anni 40 chi famosissimo e chi ma signore allora ma no veramente ma come no ma ogni cosa che dice la devo censurare la smetta con quella coca cola lei è un arabottolo comunque va bene anche lei mi son che sarebbe io sono io sono ti si a te si non è ti te ok si si sarebbe tu sei ok ea ze o eu che ea ea eo eo ze con la x x e si legge ze o ze 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 è meglio poi noi antri noi antri con la n tutto attaccato noi antri ha proprio tutta un'unica parola ok semo semo che semo significa anche scemo vabbè che lì poi voi voi altri voi antri sempre attaccato si 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 come il disegnatore ah no non è scemo no sio poi iori 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 x e i che sarebbe sei me lo ripeta allora abbiamo partiamo con mi son te si si ea ea o eo ze si noi antri semo voi antri si io si iori sei bravo visconte al momento è un bel lotto nice passiamo al verbo avere vai mi go mi go te ga te ga te ga si te ga sempre al ma smetta di pensare quello il ga il ga si il è maschile ea ga cioè ea è maschile ah ok quindi il barra ea si vabbè allora scrivo aspetta scrivo il contrario perchè non ho più spazio ok poi noi altri gamo noi altri gamo voi altri gavio va bene ma ma io verrei cos'è voi altri avrio gavio g a v i o gavio poi i ga ah i ga ok i c'è staccato ga ma questo è più facile almeno me lo ripeto allora allora mi go si te ga e te ga e te ga me lo ricorderò sempre si chissà perchè ea o eil ga si noi altri gamo voi altri gavio si i ga bravo visconte mamma mia complimenti imbutolo dentro no no è in viva voce adesso lo incredibile ooooh aspetti buonasera piposchi buonasera bene lei bene bene lo sai che mi hai appena chiamato mentre sto registrando un video con il visconte si un tempismo perfetto allora gli sto insegnando il veneto vuoi partecipare beh non male no effettivamente imparerà un dialetto di sostanza no cioè gli ho insegnato il verbo essere e avere e poi alcune offese bene quindi se vuoi partecipare il visconte ti saluta buonasera signor pipo la sento malissimo e lontanissimo quindi non la sento in realtà non so se lei mi riesce a sentire siamo in discord e il visconte sta e il visconte sta si e il visconte in questo momento sta ingoiando un microfono io ingoio tante cose beh detto così soprattutto i c***i cosa ma puoi pensare male e devi solo pensare male col visconte assolutamente ah ok ok ci abbandoniamo adesso pippo si alla prossima ciao 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 sono un samurai sei un samurai guarda lo sai cosa si dice i samurai non i siga mai io mi sei cos'è nooo nel senso i samurai i samurai non i siga mai vuol dire che non piangono mai piangere si dice sigare ah sigare ah te sighi tipo vuol dire che te stai appingendo no? si hai mai chiesto come fossero i giocatori di calcio senza denti? no lo sai che quando uno uno gli dice a un veneto di bere acqua cosa dice? no l'acqua smarza i pai ovvero l'acqua l'acqua marcia i pali beh si bravo ok noi di solito tra veneti ci diciamo appena ci vediamo ciao veccio ok si ok poi sai cos'è come si dice voglio voi voglio voglio con la j ah è proprio voi voglio voglio aspetti voglio voglio poi questo funziona soprattutto nel veneziano quando tu devi iniziare qualsiasi frase aspetta evidenziamo dove si situa il veneziano perché effettivamente voi dite veneto e comprendete tutta la regione quindi il veneziano è sopra Rovigo ok e loro ogni frase qualsiasi cosa sia dicono Gesboro Gesboro sono tanto felice è tipo un'esclamazione che significa proprio come pensa lei vabbè sì tipo effettivamente noi per esempio noi ferraresi abbiamo il maial che poi in realtà effettivamente cioè non c'entra col maiale esatto cioè non vuol dire maiale il nostro è un acronimo tipo maial mondo quindi c'è una roba del genere esatto proprio così poi dobbiamo far capire che la prima parola del visconte che ha imparato in veneto qual'è visconte marisandola ovvero che è lucertola esatto mi rimarrà impresso tutta la vita io quando morirò vorrei scritto nella mia lapide marisandola aself marisandola aself marisandola poi sai come si dicono i dente di leone allora noi li chiamiamo brusacul noi brusacocci brusacocci o noi anche piscialetto 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 esatto cos'è brusacocci 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 poi quando si il bicchiere si dice goto ok come? goto tipo bicchiere goto? si con una t goto vino, vin aspetta aspetta bicchiere goto madonna ma da dove? cioè bicchiere goto cioè vedi che non ha senso beh non ho neanche sentito come si dice pipistrello oh oddio pipistrello si dice barbastreio ecco ecco invece noi lo chiamiamo barbastel barbastella no no barbastel è un barbapapà esatto poi barbasteglio cioè voglio dire poi gli uccelli usei usei la concludo con uno poco sveglio si può dire anche palpaciocche ovvero che tocca i culi alle galline ma per quale motivo? ma perché? ma signori veneti ma io faccio un appello ma perché? non è che voi siete cresciuti siete cresciuti bene o male comunque siete partiti dalle campagne quindi e poi avete eretto il vostro impero però io voglio dire no cioè non avrete niente da fare cioè voglio dire quando avete forgiato coniato la vostra lingua è incredibile toccare il culo le galline esatto poi concludo con due proverbi dopodichè lei intanto pensi già una frase se riesce a fare una frase ci provo allora il proverbio è quando non hai soldi e paura schei e paura mai avui ovvero soldi e paura ma paura rimane uguale paura rimane uguale sì ok poi quando una persona ti esclude involontariamente ad esempio danno a tutti un piatto da mangiare e si dimenticano di te tu puoi dire chi sogna mi chi sono io ok il figlio della non so io io non so come si traduce però si dice così non vedo mai mamma mia basta se adesso vuole condividere con noi una frase allora io provo a fare una frase ma deve essere lunga o può anche essere corta allora ok ce l'ho dai vada vada se volete una parte 2 commentate sotto con scritto parte 2 aspetta che andiamo a vedere i verbi se andavano bene magari nel suo canale Visconte potrebbe insegnare a me il ferrarese il ferrarese esatto devo prendere un libro però ricordiamo che il Visconte non pubblica dall'86 no aspetta dov'è ecco ce l'ho dai me lo dica me lo dica è bellissima allora riguarda me e te ok allora sentite signori Veneti qua facciamo una premessa probabilmente insulterò la vostra lingua e mi dispiace come? ma eh nel senso effettivamente non lo so parlare ma darò il meglio di me va bene dai vai allora mi son namarisandola ok e dite si un arabotolo beh hai fatto un connubio tra verbi e offese quindi io direi che un otto pieno ci può stare e mi va bene così sono contento però l'anno scolastico non è ancora terminato quindi spero che se questo video farà bei like ci sia una parte 2 assolutamente deve farlo anche perché ho speso 10 euro per questo libro dobbiamo rimborsare il signor Sam quindi signori per favore tanto non guadagno comunque quindi questo lei non deve dirlo chiuda lei Visconte in Veneto eeeh no vabbè chiudo io in Veneto allora fiori se se vi piace sto video metti un like e condividete poi saluti da da chelmona del Visconte sempre saluti no e e cin 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 ciosca e viva la gnocca viva la gnocca viva la gnocca no 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 no